Senti, senti, vai, la foto guarda lì, lo so, lo so, lo so, lo so, sono due week-up attivi, quindi. Ma le ore, c'è il cinese? Eh? Un po' pare brutto, non c'è il cinese. Team, sei quantissimo. Salvo. Bravo, Daniel! Stai calmo, Daniel! Daniel, tranquillo! Dai, lì, scambio! Non d'accordo, eh? No, non d'accordo. Tutti i tuoi di cappazzini. E' il tipo di cappazzini. Bello, bello il cinese, cazzo. Bello, bello, bello. Ma dov'hai il cinese? Cazzo, l'arbitro cinese. No, me l'avevo visto, eh. Non l'hai visto l'arbitro del cinese? No, hai visto l'arbitro cinese? Che cazzo, ma che stai a fare? Aspettirai, bambole. No, mi abbia visto l'arbitro cinese. Oh, mio amico. Per tocco in scita, vince il primo round all'Appoleta Nero. Woo! Vai, Danny! No, mi ero, senza conto chiare. No, non posso. Sto meno il maestro, quello. L'arbitro cinese. L'arbitro cinese. L'arbitro cinese. La, l'arbitro cinese. Dai, non ce la faccio. Dai, non ce la faccio. Dai, si vuoi, e la faccio. Ho fatto, con il cuore. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Ma che cazzo dici, miscille? Ma che le trovo fumo? C'è chi che ne fa? Faccio l'acqua di! E' un toro, è un toro. 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 E' un toro.